Si alza il sipario sul rinnovato teatro delle Maddalene a Padova, una casa della sperimentazione e dei nuovi linguaggi teatrali. Dopo il terremoto del 2012, ahimè, la struttura venne chiusa. Incominciamo un lungo lavoro di ripristino che fu anche l'occasione per ripensarlo. Se voi lo guardate non ha più 99 posti, ne ha circa 150. Abbiamo creato uno spazio scenico degno di un teatro di innovazione e sperimentazione e abbiamo creato questo proficuo rapporto di collaborazione con lo stabile per cui vi è questo interscambio tra Assessorato alla Cultura e Teatro Stabile del Veneto. Qui c'è la scuola di teatro, è il luogo all'art factory delle Maddalene, è il luogo dell'innovazione e in più, come avevo chiesto al presidente Beltotto, che ringrazio, qui dentro troverà spazio una rassegna, angolazioni legata ai gruppi sperimentali padovani. Innovazione, partecipazione e divulgazione, queste le parole chiave per un cartellone che vuole stupire lo spettatore. Iniziamo con la banca dei sogni della compagnia domestica alchimia per la regia di Francesca Merli che ha raccolto i sogni letteralmente dei cittadini e delle cittadine di Padova e le porterà in scena. Successivamente ci sarà Performing Science, un format innovativo in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova. Cinque talk, ognuno in doppia replica, che vedranno una parte di divulgazione, quindi un docente o una docente che racconta il suo argomento di ricerca e nella seconda metà degli attori e delle attrici che metteranno in scena dei testi inediti in forma di lettura dell'autore e blogger Nicolo Targhetta. Poi spazio al premio Campiello Giovani con la rappresentazione dell'opera di Elisabetta Fontana, vincitrice nel 2023. Torna anche l'incubatore di talenti in maturazione per dare voce alle giovani compagnie teatrali. In collaborazione con l'Università andrà in scena anche Universerie, giunta all'ottava edizione.